Ti sei sboccato una rete importante questa? Sì, l'importante è che la squadra ha vinto, poi il resto è frutto del lavoro dei compagni, il mio che non ho mai mollato, però l'importante è che la squadra ha vinto. Una rete importante che cancella anche tanti fischi e si riparte anche da questa? I fischi fa parte del gioco, non mi interessa, ti ripeto, io continuo a lavorare ed è l'unica cosa che conta è che la squadra continui a fare quello che sta facendo e continuiamo su questa strada qua, il resto non mi interessa niente. Senti, tra l'impresso di Gaccione e anche la posizione nuova di Bacco, anche voi attaccanti avete possibilità diverse rispetto a prima? Col fatto di Imperio che ci ha dato una mano importante, già si è visto domenica scorsa, perciò è un giocatore importante e adesso da qui dobbiamo ripartire e continuare su questa strada. Avete sentito parlare di un tanto, molto forte nel reparto difensivo, oggi avete trovato un po' di facilità in più rispetto al solo, siete meravigliati? No, secondo me noi dobbiamo pensare a noi stessi, tanto tutte le squadre sono organizzate, tutte le squadre sono delle buonissime squadre, perciò dobbiamo pensare a noi stessi e fare le cose che cerchiamo di fare in settimana. Grazie.